impressionante stavo cercando una sola parola che potesse riassumere questo acquisto e mi è venuto in mente soltanto impressionante perché impressionante il colpo messo a segno dall'inter perché impressionante è l'aggettivo utilizzato dal suo compagno di classe classe Dortmund Marco Reus per descriverlo impressionante la sua capacità di corsa uno che riesce a toccare i 36 km orari impressionante è l'averlo strappato alla concorrenza del City e del Bayern Monaco impressionante è il suo volere quello di scegliere l'Inter a discapito di queste altre squadre impressionante è Ashraf Hakimi che diventa un giocatore dell'Inter e impressionati siamo noi tifosi ci voleva un colpo come questo ragazzi ci voleva adesso più che mai un colpo alla Ashraf Hakimi e io chiuderei già qui perché non so cosa dire ho sintetizzato non so cosa più cos'altro aggiungere perché Ashraf Hakimi è questo impressionante ma andiamo ai dettagli 40 milioni più 5 di bonus il cartellino ho detto prima Bayern Monaco e City volevano offrire di più ma lui dice no lui vuole l'Inter lui vuole il progetto Suning lui sposa la squadra di Antonio Conte si Antonio Conte sa che per crescere per essere valorizzato c'è bisogno di una squadra che abbia le idee chiare e quindi paradossalmente quello che noi vediamo come un limite questo 3-5-2 per Hakimi è il biglietto da visita perfetto sì 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 staremo a vedere solo il campo poi potrà dire chi avrà avuto ragione ma quello che è sicuro che qui parliamo di un acquisto importante qui parliamo di un tassello qui parliamo di un mattoncino che va a crescere il potenziale la forza di questa muraglia di questa muraglia e niente lo ribadisco Hakimi è un giocatore che va ad aumentare in modo esponenziale il valore della rosa sì sì lo va a migliorare da ogni punto di vista perché paradossalmente nonostante parliamo di un giocatore giovanissimo parliamo già di un vincente di uno che comunque è stato ha fatto parte di una squadra vincente il Real Madrid il Real Madrid è campione di tutto il Real Madrid che ha vinto la Champions magari ha avuto poco spazio è stato partecipe con poche presenze ma quando 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 fai parte dei migliori hai tutto per diventare migliore hai tutto per esserlo e Hakimi ha la scorza del campione sì sì e io non voglio non voglio aggiungere null'altro di di inopportuno ma inizio a credere che quando Zhang voleva diffondere il suo credo a forza di parole e sbagliò adesso ne sta utilizzando poche ma sta dando luce ai fatti e i fatti fanno la differenza fanno sempre la differenza e io sono soddisfatto sono soddisfatto di quello che oggi siamo diventati grazie a Suning che tradotto in trofei significa ancora nulla ma conta la programmazione e questa finalmente ce l'abbiamo e ce l'abbiamo anche seria ce l'abbiamo anche proficua adesso conta conta solo solo lasciare la parola al campo è sempre quello il discorso lasciamo la parola al campo e io sono sudato credetemi sono sudato sono madido di sudore per cui mi tappo mi cuccio la bocca godo tra me e me spero che lo facciate anche voi interisti e chissà amici sportivi ma questo è un grande colpo questo è un grande colpo un colpo impressionante fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate likeate iscrivetevi al canale sono 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 sudato un grande abbraccio un grande abbraccio da Neschio